Passando all'aspetto pratico dell'implementazione di questi simulatori di eventi discreti, noi avevamo questo schema mentale che ci dice guarda tu devi implementare una coda di eventi, coda prioritaria, noi sappiamo già che sarà una priority queue, con degli oggetti di tipo evento che dentro contengono sicuramente un'informazione temporale e poi in realtà possono essere di vari tipi diversi, entra e esce eccetera eccetera, alcune variabili che per noi corrispondono allo stato del mondo e poi un oggetto simulatore che ha una certa serie di metodi, chiaramente non c'è nessuna regola, non c'è nessuna interfaccia specifica da implementare però come ordine di idee il simulatore dovrà permettere di impostare dei parametri iniziali che sono questi qui che avevamo visto, i parametri iniziali dello scenario quindi in qualche modo prima dell'avvio della simulazione io dovrò poter dire a questa classe simulator che abbiamo qua dentro senti questa volta simula con questi valori iniziali, quindi avrò bisogno di metodi che mi impostano i valori iniziali alla fine delle simulazioni avrò bisogno di metodi che mi permettono di estrarre il risultato della simulazione cioè i valori misurati del simulatore stesso, quindi una serie di get di risultati calcolati poi avrò il metodo principale che possiamo chiamare metodo run, cioè fai partire questa simulazione, vai è quello con cui il programma main, il programma principale chiede al simulatore vai, esegui il codice ed eventualmente prima di fare il run dovrò precaricare nella coda degli eventi alcuni eventi iniziali perché magari so già per simulare il carico di lavoro del sistema questo dipende dai casi, alcune volte serve predefinire lo stato del mondo e predefinire alcuni eventi iniziali e da cui il sistema puoi partire e lavorare alla fine dobbiamo implementare questi quattro metodi come interfaccia verso l'esterno e invece come metodo interno il cuore del simulatore sarà un metodo che chiamiamo process event che uno per volta prende un evento e valuta che cosa fare quando è arrivato con l'evento questo è un po' non la chiamo interfaccia perché non è così codificata come un'interfaccia java ma la pseudo interfaccia a cui cerchiamo di attenerci ovviamente in funzione del problema dobbiamo definire che cos'è lo stato del mondo quindi quali sono le variabili che possono essere delle liste, delle variabili semplici, dei grafi, delle collection che mi descrivono lo stato del sistema in un certo istante di tempo ricordiamo il mondo vive nel stato del tempo presente gli eventi vivono al tempo futuro e passare al nuovo evento significa spostare l'orologio anche del mondo si è spostato l'orologio, è capitato qualcosa e quindi devo aggiornare la conoscenza che ho del mondo perché il presente è cambiato ovviamente nello stato del mondo ci devo anche mettere qualche cosa che mi permette di calcolare delle misure di interesse finali, quindi non solamente dei valori che servono tecnicamente per far evolvere la simulazione ma anche dei valori che vado via via a raccogliere per poi alla fine poter dare la misura di interesse qui ci sono qualche suggerimento di queste quattro funzioni che possiamo implementare ma io direi di poter passare direttamente verso l'esempio un dettaglio in più sugli eventi stessi questi che abbiamo chiamato eventi alla fine cosa saranno? saranno oggetti, oggetti tipo evento che hanno sicuramente un tempo ma anche un tipo un sistema ad eventi simula eventi di vari tipi diversi noi abbiamo fatto l'esempio, la macchina arriva, la macchina arriva in coda entra nei rulli, esce dai rulli sono tre eventi diversi che hanno delle conseguenze diverse sul sistema quindi questo oggetto evento deve portare in sé il tipo di evento e il tempo a cui questo avviene più le eventuali altre informazioni aggiuntive quindi sulla base poi del tipo di evento che si è verificato e delle informazioni aggiuntive questo nostro metodo process event dice ok, se lo stato del mondo adesso ha certe caratteristiche e è arrivato questo evento specifico allora lo stato del mondo come dovrà essere? uno, come dovrà essere aggiornato e due, quali eventuali nuovi eventi devo programmare quindi questo è il cuore del simulatore lui riceve un evento e dice ok, io ho dei parametri di ingresso che mi hanno impostato all'inizio posso vedere qual è l'evento di che tipo è e quali valori contiene e posso ovviamente sapere com'è lo stato adesso del mondo allora ciò che devo fare io come metodo process event ovviamente devo aggiornare lo stato del mondo qui c'è scritto opzionale ma quasi di sicuro dovrò aggiornare lo stato del mondo se è successo qualcosa devo generare eventualmente eventi futuri perché so che poiché è successo questo e il mondo era in questo stato allora dovrà succedere quell'altro e aggiornare le misure di interesse questo è il cuore tutto questo cuore viene inserito in un bel loop che trita gli eventi uno per volta adesso questa differenza tra sincrono a sincrono la vediamo poi più avanti pescando dai singoli esempi allora partiamo perché voglio arrivare andiamo così a entrare nell'esempio l'esempio che facciamo oggi è quello di un noleggio auto se stiamo in noleggio auto voi immaginiamo di avere un garage con nc auto nc sta per number of cars questo è un parametro della simulazione può essere 5, può essere 10, può essere 20 e supponiamo che i clienti arrivino al nostro noleggio auto in modo uniforme un cliente ogni T in minuti T in tempo di ingresso ok? quindi dall'ora di apertura all'ora di chiusura i clienti arrivano scadenzati sempre con lo stesso intervallo è chiaro che è irrealistico però partiamo da qualche situazione che sarà irrealistica per poi eventualmente andare a migliorarla allora quando arriva un cliente che cosa succede? qual è la logica del sistema? la logica nel nostro sistema sarà molto semplice io non prendo prenotazioni quando arriva un cliente se c'è un'auto disponibile la noleggia e ovviamente la terrà per un certo tempo di viaggio se non ci sono auto se ne va e quindi un cliente non soddisfatto poi arriverà il prossimo cliente e dirà ci sono auto? sì non ci sono? no e allora sono soddisfatto? non sono soddisfatto? e così via io voglio calcolare come obiettivo della simulazione il numero di clienti non soddisfatti alla fine del giorno che ovviamente è una funzione qui ho detto è una funzione dnc perché è il numero di auto perché alla fine questo è il mio investimento compro tutta auto e vedo se riesco a soddisfare dei clienti ovviamente sarà in funzione dnc ma anche del tasso di arrivo dei nuovi clienti ma anche della durata del viaggio perché se la gente non legge un'auto e poi dopo dieci minuti me la riporta io riuscirò con le stesse auto a soddisfare più clienti e viceversa allora noi nel nostro simulatore possiamo ipotizzare che il tempo di viaggio cioè il tempo entro il quale il cliente mi dovrà restituire l'auto può essere casualmente o un'ora o due o tre ore quindi una variabile casuale che può valere uno oppure due oppure tre ore ok? questo è il nostro scenario che vogliamo simulare allora chiediamoci quali tipi di eventi ci sono nel nostro sistema quali tipi di eventi possono cambiare lo stato del sistema sicuramente può arrivare un nuovo cliente che prima non c'era e in questo caso può darsi che arrivi un nuovo cliente e si noleggia una macchina oppure arrivi un cliente e non possa noleggere la macchina perché il garage è già vuoto questi due eventi questi due diciamo così fatti che il cliente arriva e il fatto che noleggia la macchina potrei modellarli come eventi separati oppure come un evento unico perché se avvengono avvengono contemporaneamente cioè nel momento in cui il cliente deriva nel momento in cui il cliente arriva l'auto viene noleggiata oppure potrei dire che nel momento in cui il cliente arriva l'auto viene noleggiata un minuto dopo se volessi vedere quell'evento separato però in realtà in questo caso non ci è necessario anche qui di nuovo il livello di dettaglio dipende da cosa vogliamo vedere ma di sicuro c'è un evento separato e quando il cliente restituisce l'auto che sono tra l'altro i due eventi le due cause che possono causare una modifica dello stato del sistema che è il numero di auto disponibili attualmente disponibili nel garage quando è che quel valore lì auto totali 20 ok il numero di auto disponibili inizia da 20 al mattino quando apro cosa che può farlo diminuire quando arriva un cliente cosa che può farlo aumentare quando un'auto viene restituita le altre cose non ci sono non mi interessano non mi interessano perché non possono modificare il modello del mondo poi ho delle variabili che in realtà non influenzano quindi l'arrivo dei clienti modifica il numero di auto disponibili il valore delle auto disponibili modifica ciò che succede quando un cliente arriva perché può trovarle o non trovare l'auto disponibile e quindi può darsi che se un cliente arriva diminuisco le auto disponibili e programmo il ritorno di quell'auto oppure semplicemente non prende nulla quindi non fa nulla in parallelo dobbiamo anche tenere traccia di quanti sono i clienti totali che sono arrivati e i clienti non soddisfatti che sono arrivati questi valori non influenzano la simulazione cioè non è che quando un cliente arriva il comportamento del sistema dipende dal fatto che ci siano già stati sette clienti non soddisfatti no dipende solamente dal numero di auto disponibili quindi sono delle misure che mi servono come output ma quindi li devo calcolare ovviamente ma non influenzano l'evoluzione del sistema ok quindi ci sono delle variabili che sono variabili interne in qualche modo che sono legate a filo doppio con gli eventi gli eventi modificano le variabili di stato le variabili di stato modificano il modo in cui gli eventi si comportano in modo in cui devono essere gestiti il comportamento a seguito di un evento e poi invece ci sono le misure che semplicemente vanno ad osservare ciò che è successo e mi danno dei numeri in cui sintetizzare la bontà o meno di questa simulazione allora con questo proviamo a passare al codice e implementare un pochino seguendo queste linee guida che ci siamo dati allora io nel progetto ho creato una classe vuota simulatore ho creato nel model una classe di prova un test simulator per darci un'idea di come potrebbe comportarsi il nostro sistema c'è una classe simulator in cui all'inizio imposto il parametro nel nostro esempio è molto semplice c'è un parametro solo c'è il numero di auto totale nel garage imposto la frequenza di arrivo dei clienti in questo caso ho pensato di usare un oggetto di tipo duration che mi misura proprio l'intervallo di tempo impostato come 10 minuti che è quello che dice il testo quindi una volta che ho impostato i parametri di simulazione faccio run e faccio parte della simulazione e alla fine della simulazione otterrò il numero totale dei clienti e il numero di clienti non soddisfatti che sono i due parametri che mi erano richiesti dal testo dell'esercizio quindi dall'esterno il simulatore si vede così ti imposto dei parametri chiamo run e vado a vedere il risultato che ho ottenuto ovviamente tutto questo va implementato per ora c'è semplicemente il metodo di test e dobbiamo implementare il simulatore stesso con questi metodi allora implementare il simulatore significa definire una serie di informazioni la prima è chi sono gli eventi poi cos'è i parametri di ingresso di simulazione chi sono lo stato del sistema lo stato del mondo e quali sono le misure in uscita queste sono le quattro insieme di variabili che dobbiamo definire per poter definire un simulatore i parametri di simulazione l'abbiamo già visto ce n'è uno solo che è il numero di auto nc number of cars e il tempo di arrivo non ce ne sono uno solo ce ne sono due numero numero di auto e una duration che è il tempo t in duration è java.time.duration tempo di ingresso degli utenti tempo intervallo tra clienti di tempo tra i clienti le misure in uscita le sappiamo già che devono essere il numero di clienti totali private int n clienti e private int n clienti insoddisfatti lo stato di sistema che cos'è è di fatto il numero di auto che attualmente ci sono nel garage dovrebbe bastare questa informazione per poter capire come far evolvere il sistema quindi private int n auto quindi auto attualmente presente e queste sono tutte variabili come vi dicevamo queste sono delle costanti durante la simulazione non cambiano questo è lo stesso sistema che evolve e influenza l'evoluzione del sistema queste sono delle misure in uscita che evolvono ma non influenzano lo stato del sistema il grande assento ovviamente è la coda degli eventi la coda degli eventi che sarà una coda prioritaria di oggetti di tipo evento che ci dobbiamo creare quindi creiamoci un oggetto di tipo evento ragioniamo su quali sono quindi crea una nuova classe che chiamo event che rappresenta l'evento del mio simulatore quali attributi dovrà avere la classe event sicuramente dovrà avere un attributo di tipo temporale ok quindi a quale istante di tempo si riferisce questo questo visto che avevamo lavorato con duration possiamo lavorare con local time private local time chiamiamolo time questo local time java punto time quindi ogni evento ha un istante di tempo in cui esso avviene in cui esso accade e poi avrà un tipo di evento questo tipo di evento può essere arriva un cliente oppure viene riportata un'auto questo potrebbe essere in questo caso un booleano vero falso true false oppure un intero uno due uno vuol dire che arriva un cliente due vuol dire che arriva una che viene rispostituta un'auto oppure per maggiore leggibilità possiamo anche definire una enumerazione con delle costanti simboliche che rappresentano i nomi degli eventi quindi public enum enum scusate devo dare un nome eventi per esempio parentesi graffe nuovo cliente virgola ritorno auto non so se siete familiari con enum in java semplicemente sono delle classi particolari che definiscono automaticamente delle costanti è come se definissi nuovo cliente uguale 1 ritorno auto uguale 2 e così via e quindi posso poi definire degli oggetti di tipo event type che però possono assumere solamente questi valori e quindi anche il compilatore controlla che possiamo solamente associare questi valori a queste variabili questa numerazione posso definirla in un file separato come fosse una classe oppure in questo caso l'ho definita all'interno della classe event perché di fatto è una classe privata che serve solamente per specificare meglio l'evento l'ho definita public in modo che anche dall'esterno della classe event io possa vedere i nomi di queste variabili se chiamassi private dall'esterno non posso dalla classe simulator non potrei vedere questi due nomi perché sarebbero privati questo è un modo per definirla lì dove serve che documenta meglio che qui ci serve a questo punto una variabile privata di tipo event type che posso chiamare type ok quindi abbiamo un time che mi dà un'ora un type che di fatto è un numero 1 o 2 che è vincolato diciamo così alle num non fa altro che dare una tassi semplificata per definire delle costanti quindi questo qua nuovo cliente è una costante numerica che vale io ho detto 1 o 2 no in realtà sono 0 e 1 vale 0 ritorno auto vale 1 quindi è come se avessi scritto 0 o 1 ma anziché scrivere 0 o 1 quindi questo type può valere 0 o 1 ma in realtà anziché scrivere 0 o 1 scrivo nuovo cliente ritorno auto che è molto più leggibile e soprattutto evita di poterci mettere dentro un 3 che non avrebbe nessun senso ok quindi nuovo cliente ritorno auto non assumono dei valori sono delle costanti type può assumere o il valore nuovo cliente quindi posso avere type uguale nuovo cliente oppure type uguale ritorno auto e questo semplicemente è una costante simbolica che rappresenta un valore diverso dagli altri quindi non ci dobbiamo preoccupare noi di qual è il numero 1 2 3 4 5 da associare alle varie condizioni perché lo fa automaticamente l'enumerazione java ok anziché scrivere const int nuovo cliente uguale 1 const int nuovo cliente ritorno auto uguale 2 eccetera lo fa già l'enum da sola ok poi cosa fa la classe evento è una classe normale ricordiamoci che l'evento lo dobbiamo inserire in una coda prioritaria e quindi devo sicuramente implementare l'interfaccia comparable dell'evento stesso ovviamente comparable è la classe predefinita nel momento in cui scrivo implement comparable Eclipse si arrabbia perché mi dice che questa classe evento ho detto che lo implementa ma non implementa il metodo e quindi aggiungo i metodi non implementati aggiungo il compare to in cui chiamiamolo a me che si chiama rather in cui dovrò restituire il valore di confronto tra due eventi e questo valore di confronto è ciò che determinerà la priorità di di estrazione della coda prioritaria e quindi la cosa più semplice visto che questi eventi hanno informazione temporale fare confronto tra i due tempi quindi classica delega io delego alla variabile time di confrontare quindi return this.time .compare to other.time cioè sto dicendo che il confronto temporale tra due oggetti tipo evento è uguale coincide col confronto temporale dell'attributo time che è interno a ciascuno di essi cioè gli eventi sono ordinati naturalmente per tempo se volessi avere un ordinamento al contrario basterebbe mettere un meno qua davanti e allora mi scambia il più col meno il positivo col negativo e mi darebbe l'ordinamento per tempo decrescente anziché crescente invece così me lo fa per l'ordinamento per tempo crescente quindi il primo valore il minimo quello che è la priorità più alta è quello che è il tempo più basso perfetto quello che volevo e poi vabbè questa è una classe che deve semplicemente avere il getter il sector quindi è il costruttore quindi dobbiamo farci costruire il costruttore partendo dai due campi quindi local time event type e poi mi faccio costruire anche il metodo di getter setter ma questo getter setter di time e di type e mi mi fermo qua perché probabilmente non mi serve definire una nozione di uguaglianza perché non li metterò in un hash table ok quindi questi sono i metodi fondamentalmente vabbè sono i metodi che qualunque oggetto deve avere il costruttore getter setter più il comparatore allora avendo definito questa classe evento potrò definire la mia coda prioritaria priority queue che è ciotto java.util di event chiamiamola pure queue che è la coda degli eventi manuel mi chiede perché mi dice qua in questo metodo other.time lui avrebbe scritto other.gettime in realtà è vero che other è un oggetto diverso ma essendo un oggetto della stessa classe io posso accedere anche in metodi privati di classi identiche alla mia in java quindi in questo caso è equivalente o la visibilità anche sulle proprietà degli altri oggetti perché questo oggetto è di tipo event e event sono io quindi il concetto di private è relativo alle classi quali sono le classi che possono vedere queste proprietà non quali sono gli oggetti quindi due oggetti diversi della stessa classe possono in realtà vedersi le proprietà a vicenda senza passare dai metodi getter cambia niente l'effetto è esattamente lo stesso ok allora possiamo iniziare con i metodi facili abbiamo detto che il test simulator ha bisogno di set num cars set client frequency come metodi e vabbè questi non li possiamo quindi metodi impostazione e parametri iniziali quindi abbiamo un public set public void set num come si chiamava num cars set num cars int nc e cosa farò mai this.nc uguale nc e va bene poi avrò un public void set si chiamava facciamo che copio e incollo perché sono pigro set client frequency che avrà una duration d e farò semplicemente this.thing uguale di ok quindi adesso ho i valori poi posso partire facendo run simulazione public void run per ora facciamolo void poi vediamo ok il metodo run che cosa deve fare? eseguire la simulazione allora parte ovviamente creandosi le strutture dati che gli servono e inizializzando lo stato del sistema quindi devi inizializzare la coda degli eventi e lo stato del sistema la coda degli eventi la creiamo quindi this.q uguale new priority q sempre di eventi forse vogliamo possiamo scriverlo per ricordarcelo e quindi crea una coda nuova eventualmente dimenticando i residui delle simulazioni precedenti inizialmente e quindi devo impostare lo stato iniziale del sistema e gli eventi iniziali del sistema prima di partire con la simulazione vera e propria lo stato iniziale che cos'è lo stato iniziale per noi lo stato è solamente il numero di auto attualmente nel sistema n auto l'unico stato che evolve più tutte le misure di uscita quindi n c n auto sarà n c inizialmente cioè prima all'inizio della simulazione tutte le auto sono in garage e il numero di clienti è zero e il numero di clienti insoddisfatti sarà anch'esso zero quindi qui ho fotografato lo stato del sistema alle 8 del mattino tutte le auto in garage e ancora nessun cliente è arrivato e quindi nessuno può essersi considerato insoddisfatto eventi iniziali cioè io cosa ci metto dentro la coda degli eventi inizialmente e ci dovrò mettere un po' di eventi che corrispondano all'arrivo degli utenti a me hanno detto che i clienti arrivano con una frequenza di TIN 10 minuti e quindi dovrò simulare il sistema da una certa ora a una certa ora e prevedere che in quell'intervallo di tempo arrivino dei clienti ok allora in realtà noi ci scopriamo che abbiamo bisogno di un'informazione in più che è ad esempio l'orario di apertura di questo di questa attività che è di fatto tra i parametri di simulazione anche se non è esplicito se non ce l'hanno detto non ce l'avevamo pensato finora lo possiamo aggiungere tra i parametri di simulazione se aggiungiamo poi anche il metodo set vorrà dire che potrà essere modificato se non aggiungiamo nessun metodo set vorrà dire che rimane una costante all'interno della simulazione quindi possiamo chiamarlo ora apertura che potrebbe essere non so apriamo alle 8 del mattino local time punto ov local time punto ov dunque l'ov ha un se non sbaglio private private local time ora apertura uguale ok local time lo prendo da già punto time ov richiede un'ora e un minuto ora e un minuto e eventualmente secondi diciamo che apriamo alle 8 del mattino quindi crediamo local time per l'ora di partenza e un local time per l'ora di chiusura facciamo finta che siano le 20 ok e allora dovremo generare un evento di arrivo cliente ogni 10 minuti dall'ora di apertura all'ora di chiusura e cominciare a metterli dentro la coda prioritaria ok allora questo lo possiamo fare qui ci definiamo una variabile local time ora e la inizializziamo con l'ora di partenza dis.ora di apertura dis.ora di apertura e poi abbiamo un ciclo in cui while ora punto before is before before dell'ora di chiusura dis.ora chiusura aggiungo aggiungo un evento di arrivo cliente alla coda corrispondente a quell'ora allora cosa farò farò q dis.q punto add aggiungo un evento come lo costruisco questo evento sarà un nuovo oggetto tipo event a cui do due parametri il time e il type a che ora arriva l'utente a quest'ora qua che sto simulando di che tipo è questo evento sarà del tipo arriva un nuovo utente quindi event type punto nuovo cliente event type è il nome dell'enumerazione che avevamo creato punto nome della costante quindi ha creato un nuovo oggetto tipo evento il time è l'ora all'inizio sarà l'ora alle 8 supponiamo alle 8 arriva subito qualcuno e l'evento il tipo di evento è arriva qualcuno poi ovviamente in questo ciclo incrementerò l'ora quindi ora uguale ora punto plus team this punto team ricordiamoci sempre gli oggetti di java punto time che se li usiamo correttamente ci permettono di condensare molto le operazioni temporali senza dover stare lì a fare conti con ore minuti secondi riporti al sessantesimo eccetera eccetera quindi è un ciclo in cui parto dalle 8 del mattino e finché sono before alle 8 di sera aggiungerò nuovi eventi quindi aggiungerò a un certo punto tanti eventi uno in 10 minuti dalle 8 alle 20 di sera di tipo nuovo cliente quest'ora si incrementa quindi 8 8.10 8.20 8.30 eccetera eccetera quando sono arrivato alle 20 esco da questo loop avendo popolato la coda che qui era vuota l'inizializzata vuota e qui l'ho riempita dagli eventi preliminari e avendo a questo punto questo possiamo partire con la simulazione vera e propria possiamo partire con la simulazione vera e propria che è il ciclo di simulazione vero e proprio ciclo di simulazione che sarà sempre uguale in pratica in tutti i nostri simulatori ci chiediamo esistono eventi da simulare se si simuliamoli quindi ad esempio while possiamo usare il peak possiamo usare anche l'empty quindi abbiamo detto not this.q .isempty quindi finché la coda non è vuota estrae il prossimo evento .pol abbiamo visto pol è quello che estrae l'evento e eventualmente restituisce null ma noi abbiamo fatto il test prima quindi non dovrebbe mai restituirmi null e poi lo elabora e quindi abbiamo un process event dell'evento e process event ovviamente è una procedura che dobbiamo ancora scrivere ok mi chiede Alessandro di far vedere dove ho creato l'oro di chiusura l'oro di chiusura non è altro che qua ho fatto copia ancora di l'oro di apertura anziché alle 8 ho messo alle 20 allora questo già qualcosa fa nel senso che questo process event adesso non l'abbiamo ancora scritta però proviamo a vedere cosa sta succedendo abbiamo creato degli eventi che abbiamo inserito in una coda e noi possiamo provare a vedere se il simulatore funziona se qualcosa si muove ok stampiamo l'evento che abbiamo appena inserito test simulator dà ancora errore perché non abbiamo ancora questi valori ma commentiamoli per un momento ok quindi vediamo cosa succede io se eseguo questo test simulator ah scusate devo anche commentare questo se eseguissi questo simulator eh si bravo non ho messo non ho messo il il to string qua dentro quindi vengono fuori schifezze aggiungiamo il to string a generate to string ok salva e riproviamoci ok mi fa vedere quali sono gli eventi qui non ho stampato la coda ho stampato gli eventi che via via che vengono estratti quindi alle 8 viene stato un evento di tipo nuovo cliente alle 8 e 10 viene stato un evento di tipo nuovo cliente e così via sto estraendo uno a uno gli eventi che prima avevo inserito ovviamente in ordine di tempo crescente ci mancherebbe e quando ho finito gli eventi chiaramente alle 19.50 l'ultimo cliente è arrivato eh eh io scusa eh la simulazione finisce perché avevo questo test che la coda era vuota e la coda chiaramente si svuota perché non ho eh non ho mai aggiunto più nulla eh finora in realtà non è che abbia simulato davvero ho solamente inserito gli eventi e li ho estratti adesso li devo elaborare e quindi mi posso creare preferisco farla a parte un metodo process event private solo per semplicità perché magari è il metodo che a volte è più lungo degli altri private void process event di un evento è quindi questa funzione funziona process event cosa deve fare deve considerare qualcuno gli ha detto guarda che adesso c'è un evento calcolane le conseguenze allora lui cosa farà come prima cosa si chiede ma che tipo di evento è quindi tipicamente sarà un'istruzione tipo switch sul tipo di evento e punto get type allora se è di tipo e il fatto di avere un enum ci aiuta perché quando sono sul case uno switch faccio contro spazio lui mi da già quali sono le costanti valide per questo tipo di enumerazione se è il tipo nuovo cliente faccio certe cose break se è tipo invece ritorno auto farò altre cose ok quindi a seconda del tipo di evento che devo elaborare l'elaborazione sarà diversa cosa devo fare se arrivo un nuovo cliente devo innanzitutto controllare se questo cliente può se a questo cliente posso dare un'auto oppure no quindi controllo se ho ancora auto disponibili quindi se dis.nauto è ancora maggiore di zero noleggia noleggia altrimenti è insoddisfatto in ogni caso ho un cliente nuovo quindi io qua posso incrementare il numero di clienti quindi mi arriva un nuovo cliente quindi posso incrementare il numero di clienti e poi mi chiedo ok questo cliente non legge un'auto o invece se ne va insoddisfatto se se ne va insoddisfatto non devo fare nulla più che non tener conto del numero di clienti insoddisfatti incrementandolo più più e a quel punto lui se ne va quindi il mio sistema non lo vede più non lo gestì non lo deve gestire in nessun modo se invece non legge l'auto devo dargli l'auto ovviamente quindi lui ha allungiato un'auto e vorrà dire che in questo momento il numero di auto si decrementa di un'unità non solo devo anche prevedere che quell'auto ritornerà entro un tempo che è di 1 oppure 2 oppure 3 ore perché altrimenti le auto escono ma non rientrano mai e quindi il mio noleggio auto funziona abbastanza male allora dovrò casualmente scegliere dovrò scegliere un intervallo di tempo tra 1 ora 2 ore 3 ore in modalità random in modalità casuale ok e poi sulla base di questo schedulare un nuovo evento di tipo ritorno auto Mario mi dice il numero di clienti lo dovresti incrementare solamente se l'auto è stata noleggiata dipende come intendiamo il numero di clienti io intendevo il numero di clienti che sono arrivati chiaramente sono tre quantità il numero di clienti che hanno noleggiato quelli che non hanno noleggiato e quelli totali che sono arrivati a più b fa c io ho pensato che il numero di clienti fosse il totale e gli insoddisfatti fosse solamente una frazione e quindi per differenza posso avere quelli che sono usciti a noleggiare si tratta solo di capire la definizione di cliente se il cliente è uno che è arrivato oppure uno che è arrivato e anche noleggiato ok allora dobbiamo però scegliere a questo punto il tempo di ritardo in certo senso estraendolo casualmente quindi possiamo avere ad esempio un numero estrarre un numero casuale non so un numero casuale tra 0 e 3 double numero uguale mat random ad esempio che mi dà un numero casuale tra 0 e 1 sapete mat.random mi dà un numero casuale in intervallo 0 compreso 1 escluso e sulla base di questo numero se vale tra 0 e 1 aggiungo 1 ora se vale tra 1 e 2 aggiungo 2 ore se vale tra 2 e 3 scusate per 3 allora facciamo per 3 e quindi estraendolo un numero casuale tra 0 e 3 se estra 0 e 1 aggiungo 1 ora se estra 1 e 2 aggiungo 2 ore se estra 2 e 3 aggiungo 3 ore quindi se diciamo che senna num è minore di 1 prevedo che arriverà un'auto tra un'ora e quindi dovrò creare un nuovo evento allora aggiungo la coda al nuovo evento che ritorno dell'auto tra un'ora this.queue .add aggiungo un nuovo evento un nuovo evento deve specificare il tempo e il tipo il tempo è adesso più un'ora e che cos'è adesso? adesso è è il tempo dell'evento e quindi siamo e punto get time cioè adesso più un'ora duration punto of 1, temporal unit punto hour si chiama non mi ricordo esattamente la sintassi vado a vedere cosa ho fatto di là no no chrono unit punto hour hours eccolo qua quindi cosa ho fatto qua? e è l'evento che sto elaborando get time è l'istante di tempo in cui il mio simulatore sta considerando questo momento quindi vuol dire adesso e punto get time è adesso aggiungo un'ora quindi qui semplicemente la sintassi per magari facciamo così o adesso più un'ora questo è il primo parametro il secondo parametro nella creazione dell'evento chiaramente è qui ho sbagliato le parentesi il secondo parametro nella generazione dell'evento ovviamente è il tipo di evento e il tipo di evento sarà un event type di tipo ritorno auto quindi qui ho creato l'evento e qui lo aggiungo alla lista quindi l'evento ha due campi quando prevedo che avverrà questo evento? adesso più un'ora che tipo di evento sarà? ritorno dell'auto una volta che ho creato l'evento lo aggiungo nella coda questo evento si andrà a infilare in mezzo agli altri eventi non so che l'auto magari ritorna tra un'ora e io so che ha degli eventi programmati fino alle 8 di questa sera e questo evento si andrà a infilare nel momento giusto così che quando poi verrà estratto dalla lista verrà estratto nell'ordine giusto in funzione della sua marcatura temporale se è minore di 1 altrimenti se il numero è minore di 2 allora facciamo la stessa cosa ma aggiungendo due ore quindi this.queue.add new event qui si può un po' anche ottimizzare questo codice perché sto facendo un po' troppo copia e incolla ma plus duration punto of due ore crono unit punto hours punto e virgola qui l'ho messo tutto sulla stessa riga ah no c'è il secondo parametro che è ovviamente il tipo di evento virgola event type punto ritorno auto altrimenti vabbè aggiungendo tre ore quindi la stessa identica istruzione dove però ci sono tre ore quindi questa è la parte un po' antipatica di questo codice in cui devo predisporre cosa mi dice perché c'è rosso perché sei rosso cos'hai che non ti piace event ah no se ho sbagliato anche qua le parentesi ne ho chiusa una troppa di qua e una poca di là così perché chiaramente l'event type deve far parte del new event non fa parte di qdq.ad ok quindi è un po' macchinoso la gestione di queste cose ma è codice diciamo così abbastanza di basso livello e questo è ciò che succede quando arriva un nuovo cliente e quando invece ritorna un'auto quando ritorna un'auto è molto più facile nel senso che semplicemente prendo atto che l'auto è ritornata devo aggiornare il stato di sistema sì devo aggiornare le misure no perché non è che un cliente in più il cliente l'ho già contato e soddisfatto era già soddisfatto perché gli ho dato l'auto quindi devo semplicemente ricordarmi che quest'auto è rientrata in garage e non devo generare nessun evento nuovo finito quella transazione con quel cliente è finita quindi la complicazione ovviamente ce l'ho nel gestire il cliente che arriva capire come fare e prevedere l'evento del rientro poi finisce qua allora per poterlo simulare dobbiamo ancora aggiungere a questo punto questi altri due metodi stupidi di ottenere il numero tra le clienti e il numero di clienti insoddisfatti nella classe simulator quindi questo era il metodo process event ok questa era la fine di process event scriviamolo così così non ci perdiamo e quindi aggiungiamo ancora un metodo public int come l'avevo chiamato get tot clients in cui semplicemente ritorno return this punto get this punto n clienti e l'altro metodo che si chiama get dissatisfied che dovrà ritornare semplicemente return this punto n clienti soddisfatti ok vediamo come funziona poi vengono le domande proviamo a eseguirlo allora alla fine l'unica cosa che il simulatore doveva calcolare era questa sono arrivati 72 clienti di cui 16 erano stati non soddisfatti noi noi abbiamo lasciato la print che fa vedere gli eventi di cui vediamo che alle 8 c'è un nuovo cliente l'810 un altro questi sono tutti i clienti soddisfatti ovviamente alle 9 10 restituisce l'auto presumibilmente il cliente che era arrivato alle 8 10 alle 9 20 arriva un nuovo cliente alle 9 30 arriva un nuovo cliente restituisce eccetera eccetera qui fa vedere cosa sta succedendo chiaramente nella giornata si succedono in modo diciamo così abbastanza intervallato le operazioni di ritorno auto le operazioni di nuovo cliente questo in realtà questo dettaglio qui noi l'abbiamo lasciato come print di debug ma possiamo tranquillamente togliere l'unica cosa che fa il simulatore alla fine l'obiettivo del simulatore è calcolare questi valori qua quindi se andiamo a togliere quella print che ci dà solo fastidio che adesso ci dà solo fastidio possiamo fare diversi run della simulazione e arrivano 72 clienti arrivano 72 clienti 18 sono insoddisfatti noi ovviamente abbiamo un fattore casuale nella simulazione e quindi il numero di clienti abbiamo un arrivo di clienti deterministico arrivano esattamente ogni 10 minuti ma un comportamento randomico perché possono tenere l'auto per 1, 2 oppure 3 ore quindi il numero di clienti insoddisfatto vedete che ad ogni simulazione varia ma ci si più o meno oscilla tra il 14 e il 17 se io volessi aumentare il numero di auto che ho in garage quindi spendere un po' di soldi vedrei che probabilmente non ho più nessun cliente insoddisfatto ho speso il doppio e ho dei clienti meno soddisfatti qual è il miglior punto di mezzo non lo so se ne avrò 15 magari nella giornata ce ne sono con 15 auto 1 o 2 insoddisfatti che però a fronte di un risparmio di un investimento extra un giorno ce ne sono 4 a fronte di un investimento extra della metà del numero di auto da comprare probabilmente può soccettare di avere 1 o 2 clienti insoddisfatti questo non me lo dice nessuno sarò io che devo gestirmi il mio business e decido qual è il punto ottimale di lavoro per la mia azienda ok ovviamente questo è molto grezzo perché abbiamo questi clienti che arrivano esattamente 1 o 10 minuti non sarà mai realistico allora andremo a procurarci dei dati che cercano di farci capire quando arrivano meglio i clienti quanto durano il viaggio dei clienti eccetera e quindi più saremo precisi nel nostro modello più potremo fare delle valutazioni anche economiche su quello che sono le nostre scelte allora ci sono un po' di domande che è giusto che ci siano allora Enrico che mi chiede ma perché hai fatto questi 3 if quando non bastava semplicemente moltiplicare per il numero si innanzitutto però moltiplicare per il numero voleva dire moltiplicare per diciamo questo è un numero reale tra 0 e 3 quindi devo prima di tutto troncarlo ok dovrei fare un int di mat.random per 3 in modo in modo da avere 1 2 o 3 in realtà ciò che avrei dovuto fare sarebbe un int num uguale tronco intero mat.random per 3 r minuscola più 1 ok ok quindi quindi random mi restituisce un numero reale io voglio tra 0 e 3 se lo tronco intero otterrò un numero intero che può essere 0 1 o 2 perché ho troncato l'intero un numero che è sempre minore di 3 e quindi sommandogli 1 otterrò 1 oppure 2 oppure 3 a questo punto questo numero lo potevo usare direttamente qua al posto di 1 2 3 messi a mano assolutamente sì in questo caso avevamo una semplificazione perché avevamo 3 durate di tempo esattamente equiprobabili e corrispondenti a questi 3 valori 1 se però mi avessero detto guarda che al 50% di probabilità sta via un'ora al 30% di probabilità sta via 2 ore e al 10% quanto rimane insomma 20% di probabilità sta via 3 ore allora in questo caso avremmo potuto comunque usare un meccanismo di questo genere cioè magari un numero tra 0 e 100 avrei estratto tra 0 e 1 e avrei detto se il numero è minore di 50 allora fai questo altrimenti se è minore di 80 quindi 50 che era la solida precedente più 30 quindi col 30% rimanente fai la seconda scelta altrimenti fai la terza scelta quindi se io ho degli eventi che hanno probabilità diverse di avvenire io estraggo un numero casuale tra 0 e 100 oppure tra 0 e 1 come preferite contare e poi vado a fare le varie soglie ok se questo numero tra 0 e 50 capita una cosa tra 50 e 70 un'altra eccetera eccetera quindi alla fine avremo spesso delle catene di filtri di questo genere poi se siamo più fortunati che la legge è più regolare sicuramente sono d'accordo con il grico che non era necessario fare tutta questa catena di if mario se in questo caso arriva un nuovo cliente contemporaneamente nel ritorno 1 che cosa succede? è che succede che contemporaneamente non esiste nel nostro mondo semplice simulato perché io elaboro un evento solo per volta e quindi quando io inserisco nella coda prioritaria un evento con lo stesso time di un altro evento che esiste già o viene messo prima o viene messo dopo non so se probabilmente viene sempre messo dopo ma non ne sono sicuro nel caso può darsi che contemporaneamente non esiste quindi o arriva prima l'auto alle 10.10 e poi anche alle 10.10 arriva un cliente ma se ho processato prima l'evento di arrivo auto allora questo cliente se la troverà l'auto se invece ho processato prima l'evento di arrivo cliente e subito dopo processerò l'evento di arrivo auto che hanno la stessa marcatura temporale e allora questo cliente l'auto non la vedrà quindi la contemporaneità non la stiamo gestendo in nessun modo sono sempre eventi prima uno solo per volta stiamo simulando l'accadimento di un evento solo per volta l'accadimento di due eventi contemporanei non è concepito in un modello tempo lineare di questo genere quale sarebbe la cosa giusta da fare non lo so nel senso che tu hai un cliente che arriva lì mentre tu gli stai per dire scusi mi dispiace deve andarsi nel frattempo sta arrivando un'auto ci aspetti un attimo allora a questo punto dovrei avere un doppio evento del tipo l'auto entra e il cliente prima di diventare soddisfatto aspetta 5 minuti ecco dovrei complicare il modello per poter gestire questo questo fenomeno reale se ritengo che nel mio business questo fenomeno sia rilevante se no chi se frega Luca ci potrebbero essere controlli sulla possibilità di noleggio a fine giornata se un cliente arriva un'ora prima della chiusura non può noleggiare per tre ore sì è una regola che non abbiamo pensato a cui non abbiamo pensato in realtà una variabile interessante è alla fine della giornata quante auto ho ancora fuori quindi se voglio alla fine giornata non avere nessun'auto fuori non le noleggio e quindi rischio di avere più clienti insoddisfatti io la voglio per tre ore no guardi non gliela posso dare perché oramai sono già alle 19 quindi ho più clienti insoddisfatti oppure accetto allora che le cose si complicherebbero perché accetto di avere delle auto che stanno fuori per la notte vuol dire che al mattino dopo non ho il garage pieno e quindi parto già con un numero di auto inferiore al totale alla capienza totale però magari me ne arriva qualcuna in mattinata certo si complica a piacere quindi su come trattare i noleggi a fine giornata non c'è scritto nulla nel testo e quindi inventiamoci qualche cosa la cosa più semplice che mi sono inventato è non ci ho pensato ho chiuso gli occhi ho fatto finta di niente e quindi come effetto però qui alle ore 20 chiudo l'autonoleggio ma non tutte le auto saranno rientrate che è ovviamente è un problema è la stessa cosa di Alessandro come possiamo gestire il fatto che dopo le ore 20 vengono restituite delle auto e in realtà questa restituzione noi non la vediamo l'evento di restituzione ah no scusate lo vediamo lo vediamo perché in realtà nella coda ci sono e quindi noi vedremo anche se volessimo stampare questi eventi di restituzione vedremmo che alcune auto sono restituite dopo questo dipende un po' dalla condizione di terminazione questa condizione di terminazione per noi va davanti finché ci sono eventi nella coda e quindi anche oltre le 20 anche le ore 20 sto gestendo gli eventi che in questo caso potranno essere solo di restituzione altrimenti potrei dire vai avanti fino a quando il primo elemento fino a quando questo evento ha un un get time minore delle 20 minore dell'ora di chiusura cioè posso decidere di stoppare la simulazione quando arriva l'ora di chiusura anche se non tutte le auto sono rientrate e allora in questo caso avrò un numero di auto diverso diverso da zero in ogni caso sono d'accordo con voi che nessuna delle due soluzioni è valida nel senso che noi non stiamo dicendo cosa capita alle ore 20 non l'abbiamo detto non abbiamo simulato e quindi viene fuori una cosa che è sbagliata c'è un errore di simulazione un'approssimazione nella modellazione non abbiamo modellato quello perché in realtà quello richiederebbe di capire cosa succede su più giorni è un'approssimazione può essere grave o no di sicuro non impatta il numero di clienti insoddisfatti così come l'abbiamo calcolati però la restituzione dopo le 20 mi costa extra devo pagare devo tenerne conto è uno di quelli come dicevo prima partiamo con un modello semplice quando ci accorgiamo che magari ci sono gli aspetti rilevanti che non abbiamo modellato li andiamo a complicare ma nel frattempo stiamo facendo delle scelte di progetto stiamo facendo delle scelte strategiche su come dovrà funzionare la nostra iniziativa motivandole su dei ragionamenti quantitativi dai dati che sono immersi da un modello più semplice quindi stiamo costruendoci il nostro business tenendo sempre da parte in parallelo un gemello digitale di quello che sarà il business reale che ci fa capire più o meno come funzionerà è normale che il numero di clienti soddisfatti è normale che sia diverso perché ogni volta che lancio il simulatore è diverso perché ho una casualità dentro chiaro che l'ordine di grandezza sarà quello ecco con 10 auto mi venivano 14, 15, 16, 17 clienti insoddisfatti se vi vengono diciamo 80 no 80 no perché sono 74 in totale se vi vengono 70 clienti insoddisfatti con 10 auto allora c'è qualche problema nei calcoli chiaramente però avendo un simulatore essendo questo simulatore stocastico ha un minimo di stocasticità dovuta a questo random è normale che i numeri vengano fuori diversi pur se devono essere della stessa ordine di grandezza Zolta mi chiede perché utilizziamo un numero compreso da 0 e 3 ma per semplicità perché abbiamo tre possibilità il testo dell'esercizio che abbiamo ancora qua da qualche parte ci diceva il tempo per cui un'auto sta fuori è un valore casuale che può essere 1 o 2 o 3 ore quindi ho tre valori diversi tra cui scegliere e quindi è stato un numero tra 1 e 3 a seconda del numero che è uscito ho impostato il primo valore il secondo valore o il terzo valore Manuel chiede se sono delle funzioni stoccastiche già in Java per impostare la frequenza di arrivo dei clienti nella libreria standard direi di no ma dovrebbero esserci puoi fare delle trasformazioni random ti dà un numero uniforme si può sempre trasformare un numero uniformemente distribuito in un numero con un'altra distribuzione di probabilità usando le formule che vi hanno insegnato la statistica che ti permette di deformare cioè fare delle operazioni aritmetiche sui numeri per dare una forma diversa alla distribuzione di probabilità anche qua dobbiamo magari con qualche esempio più avanti cercheremo di affrontare qualche esempio di probabilità non uniforme al vari gradi del tempo però facciamo attenzione non facciamo troppa matematica perché qui dentro ci sono talmente tante approssimazioni che se facciamo troppo i fini sulla distribuzione di probabilità probabilmente non ci cambia un gran che ok ricordiamoci modelli sono modelli fortemente approssimati ci danno un'idea ok quindi non ha senso andare a ottimizzare troppo finemente un singolo aspetto quando ci sono dei buchi enormi da un'altra parte quindi se vogliamo migliorarlo anche dal punto di vista statistico facciamolo doveva tenere presente tutto tutti gli aspetti ok quindi avere un modello di distribuzione dell'arrivo poassoniano si può essere ma poi alla fine devi ricordarti che alle 9 del mattino è diverso che alle 8 di sera e quindi devi magari migliori un aspetto e ne trascurri un altro quindi dobbiamo sempre fare molta attenzione a non complicare inutilmente le cose quando hai delle approssimazioni forti in questo genere cioè mi danno un'idea generale non mi danno il numero esatto comunque magari in altri esercizi cerchiamo di potenziare questo aspetto gli eventi Michele gli eventi a cui ci riferiamo e definiamo come costanti sempre come public e num io lo trovo il modo più comodo perché così ho esplicitamente scritto quali sono gli eventi che mi interessano gli ho dato un nome anche simbolico anche mnemonico e poi posso riferirmi direttamente a queste costanti dentro il codice non è obbligatorio è semplicemente il metodo che a mio pare è semplice e chiaro per evitare altri non mi piacerebbe ad esempio definire delle stringhe tra virgolette delle costanti tipo stringa perché poi vai al punto equals diventi scemo a confrontarle è molto meglio le costanti simboliche internamente sono dei numeri quindi sono anche molto rapidi da confrontare però non è un obbligo Giuseppe infatti mi sta chiedendo se al posto di usare num potevamo creare le classi figlie di event sì certo si poteva fare una classe event e delle varie sottoclassi nel caso in cui le singoli sottoeventi avessero delle proprietà diverse in questo caso qui non abbiamo nessuna proprietà solamente time e type non abbiamo il nome del cliente o altre proprietà complica un po' la vita perché poi qui in questo switch dovresti andare a controllare di che classe è l'oggetto quindi hai un oggetto tipo event che è una super classe per te a questo punto ma sai che in realtà fa parte di una sottoclasse e quindi dovresti controllare e.typeof sotto evento 1 oppure e.typeof di evento 2 è un po' diciamo così a me non piace tanto lavorare con le classi cioè con l'interrogazione delle varie sottoclassi dovrei a quel punto avere un po' l'imorfismo sulla process event quindi fare tante process event diverse una per ciascuna sottoclasse questo sarebbe forse del modo più pulito ho tante funzioni che si chiamano process event no però non funziona devo comunque dovrei avere un'altra classe che contiene process event di cui faccio le sottoclassi e ciascuna ha il suo metodo corretto però comincia a diventare un po' pesante ecco se vale la pena come sempre complicarlo perché magari i vari tipi di event contengono informazioni così diverse faccio classi diverse se no spesso si mettono comunque tutti i dati tutti i vari valori tutte le varie variabili private dentro la classe event e alcuni tipi di eventi ne useranno alcune altri tipi di eventi ne useranno altre quindi sì dal punto di vista della programmazione di oggetti chiaramente questo non è la cosa più pulita ma è la cosa più semplice in certo senso ok quindi questa è un pochino la filosofia che seguiremo con questo tipo di simulazioni la volta prossima faremo un esercizio un pochino più complicato che è quello di emergency quindi la gestione di un pronto soccorso in cui avremo utenti diversi con priorità diversa e quindi anche la logica di gestione sarà la stessa ma sarà più complessa ma la struttura sarà sempre questa essenzialmente ok la struttura delle varie tipi di variabili la coda degli eventi il caricamento iniziale della coda degli eventi la gestione del ciclo di simulazione e questo codice è sempre lo stesso il grosso della differenza la SAN la fa ovviamente l'elaborazione dei singoli eventi ok vi lascio a questo punto con qualche minuto di ritardo ma direi che abbiamo terminato l'esercizio farò immediatamente un commit così se non avete ancora i crampi della fame potete dare un'occhiata noi ci vediamo domani in laboratorio ricordate di prenotarvi se volete venire domani è giovedì sarà il penultimo laboratorio domani ancora sui grafi settimana prossima sulle simulazioni grazie a tutti e buona giornata